da sanremo young a sanremo 2020 con il brano 8 marzo nei nostri studi per tgm television reality festival tecla e allora buon pomeriggio di nuovo da sanremo continuiamo a raccontare i protagonisti del festival della canzone italiana è un appuntamento questo che viviamo insieme a una delle ragazze più apprezzate di questo festival tecla ciao 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 grazie mille 8 marzo una canzone tosta però la canzone forte vero come come è stato avvicinarsi a questo testo così importante che racconta la forza delle donne certo io non ho scritto questo brano direttamente i due autori principali sono piero romitelli errori di benedetto è stata una delle prime canzoni che mi sono state proposte ho capito subito che era che era lei un brano come ti avevo già anticipato che parla che parla di forza femminile un giorno mi piacerebbe diventasse un inno da dedicare a alle proprie figlie e propri figli alle madri e padri a tutto il mondo femminile non ma perché secondo te oggi abbiamo ancora bisogno di affrontare questi tremi perché veramente dovremmo quasi darlo per scontato no che è l'otto marzo siamo tutti uguali tutti allo stesso modo io lo do per scontato molte persone dicono di farlo e non lo fanno quindi è inutile mentirci in faccia e dire che che va tutto bene perché perché purtroppo non è ancora così quindi si ha ancora bisogno di parlarne poi spero che arriverà un giorno in cui non ci sarà più il bisogno allora stiamo entrando nel momento più teso di questo di questo festival perché noi siamo a venerdì quindi il momento il momento è abbastanza abbastanza sentito abbastanza di tensione e come è andato avvicinarsi a Sanremo per te che comunque hai già avuto esperienze televisive in passato vivere questi giorni così concitati così pieni come come è stata l'esperienza fino a questo punto allora io ho avuto sì qualche qualche esperienza naturalmente ma niente ha tritato la mia carne come come qui a Sanremo cioè giriamo tutti i giorni da da una parte all'altra di Sanremo a fare interviste chiedono foto sono sono tutti molto carini però sto sto capendo adesso la bellezza della possibilità che ho avuto di tanta gratitudine vedo mentre mi racconti tutto questo assolutamente ma a 16 anni ma che me lo doveva dire io sono sono contentissima un sogno come è stata vissuta questa cosa a scuola a casa in giro insomma come 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 ti stai confrontando con amici in questi giorni diciamo che io sono sicilia cioè i miei genitori sono sono siciliani ho 12 zii tra tutti e sono sono tutti molto orgogliosi a scuola gli amici sì c'è qualcuno che è più d'accordo che mi fa complimenti altri che magari non mi dicono non mi dicono neanche niente però però va bene così cosa studi tu io faccio il grafico pubblicitario anche se avrei preferito fare il liceo artistico però però si sta rivelando una scuola una scuola abbastanza interessante questa è la bellezza della normalità che è un fattore che si riscontra tanto in questo Sanremo artisti che percepisci molto come vicini Tecla che cosa succede dopo Sanremo ci saranno altri progetti poi nel futuro non solo musicali non solo musicali esattamente che ad aprile o marzo inoltrato ancora non si sa bene la data uscirà una fiction che io ho girato subito dopo la vittoria di Sanremo Young ed è finito ad ottobre si chiama vita in fuga e sarò una dei quattro protagonisti allora un in bocca al lupo a questa bella ragazza aspetta che se dico bella dopo no 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 non ci saranno fraintendimenti non ti preoccupare va bene per uno speaker che sa sempre stare un passo indietro Tecla grazie ciao 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 ciao